buongiorno buonasera mi ricollego in diretta perché mi è stato comunicato che la parte relativa ai centri commerciali e alle nuove regole per quanto riguarda le strutture vendita dei negozi non si è sentita allora aspettando che anche voi vi ricolleghiate chiedendo scusa dell'inconveniente ma si è bloccata la diretta proprio quando stavamo parlando del tema delle attività commerciali avevamo appena finito la parte dei bar che vi ripeto i bar sono aperti dalle 6 del mattino alle 6 di sera bar e ristoranti in tutto il piemonte e in tutta italia per quanto riguarda invece i negozi allora per quanto riguarda i negozi il decreto che il presidente del consiglio dei ministri sta per firmare o credo che abbia firmato in questi minuti che abbiamo definito oggi nella conferenza stato regione e che stende tutte le previsioni per tutta Italia uguale prevedono che le attività commerciali possono continuare a vendere quindi sono consentite le attività commerciali purché il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare gli assembramenti evitare gli assembramenti vuol dire che devi garantire che ci siano delle dimensioni e delle caratteristiche di questi locali tali per cui venga garantita la distanza di almeno un metro tra una persona e un'altra persona quindi se un negozio riesce a garantire la distanza di un metro tra una persona e un'altra persona contingentando l'accesso regolando l'accesso può continuare a essere aperto queste attività sono consentite dice la norma se per ragioni strutturali uno in un centro storico locale piccolo locale deve rimanere chiuso per cui la priorità è la sicurezza delle persone questo per quanto riguarda le attività commerciali per quanto riguarda invece le medie grandi strutture di vendita tocchiamo un tema che era stato sempre un tema molto dibattuto ci si chiedeva ma che senso ha chiudere le scuole se poi dall'altra parte poi possiamo andare al supermercato o meglio al grande centro commerciale dove ci sono in spazi chiusi assembramento di migliaia di persone finalmente questo decreto prende in considerazione questo tema e prevede attenzione che nelle giornate festive e pre festive sono chiuse le medie grandi strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati vuol dire che tutti i prefestivi e i festivi il sabato e la domenica per capirci i centri commerciali stanno chiusi possono aprire di settimana quindi nei giorni feriali il gestore di questi esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità di vendita di cui abbiamo parlato prima che vale per tutti gli esercizi commerciali evitare l'assembramento quindi sabato e domenica le attività commerciali delle medie grandi distribuzioni rimangono chiuse ma attenzione non tutte potranno rimanere aperte le farmacie le parafarmacie e sentite bene questa cosa che è fondamentale le i punti vendita di generi alimentari quindi non è che uno deve partire adesso e andare a fare la scorta perché pensa che poi magari non riesce più a comprare i generi alimentari i generi alimentari sono garantiti non ci sono problemi né di consegna merci né di approvvigionamento e non ci sono neanche problemi come vedete di chiusura di queste attività perché chiudono sì i centri commerciali i grandi medi ma chiudono per tutte le attività non alimentari le attività alimentari quelli che vendono i generi alimentari rimangono aperte quindi possiamo continuare a fare la nostra vita normale forse meglio regolarci andando a fare la spesa di meno per andare meno volte quindi andare di meno comprando di più così per limitare anche in questo modo gli eventuali spostamenti ma senza nessuna paura senza nessuna psicosi lo scopo della chiusura dei grandi centri commerciali sabato e domenica è perché sabato e domenica grandi centri commerciali in un momento in cui chiudi i musei chiudi il cinema non ci sono le partite di calcio si sospendono gli eventi sportivi diventavano lo sfogatoio dove si andava tutti a chiudersi all'interno di un bel centro commerciale questo non poteva essere accettabile era un non senso e questo decreto pone un limite forte ferreo che io personalmente condivido e condivido pienamente quindi centri commerciali chiusi il sabato e domenica ma aperti nella parte alimentare quindi potrete continuare a mantenere le vostre abitudini di vita nell'acquisto dei generi alimentari con l'impegno a uscire però di meno e quindi a razionalizzare la propria settimana a organizzare la propria settimana in modo da uscire per andare a lavorare che sarà sempre concesso su tutto il territorio nazionale spostandosi senza problemi per andare a fare la spesa perché evidentemente è una necessità ma togliendo ed eliminando ogni altra occasione invece di uscita dalla propria abitazione per questa ragione alla lettera s il decreto prevede che vengono sospese le attività delle palestre dei centri sportivi delle piscine dei centri natatori dei centri benessere dei centri termali dei centri culturali dei centri sociali e dei centri ricreativi questo era il pezzo che mancava per essere completi ed è ciò che il presidente del consiglio dei ministri firma questa sera in vigore da domani mattina fino al 3 aprile anche le scuole ricordate che le scuole avevano due differenti previsioni prima per la lombardia era il 3 aprile invece per le nostre zone era stato mantenuto il 15 marzo non c'è più questo vale per tutta italia fino al 3 aprile queste regole che riguardano le scuole che riguardano le attività commerciali che riguardano i bar che riguardano gli spostamenti valgono da domani mattina fino al 3 aprile in tutto il territorio nazionale e speriamo davvero che servano speriamo davvero che siano utili perché sono dure sono forti e creano disagio ma devono essere vissute da tutti quanti noi come un atteggiamento doveroso di senso civico e di rispetto alla vita delle persone soprattutto e chiudo delle persone a cui dobbiamo di più a cui vogliamo più bene che sono le persone più deboli nella lotta al coronavirus che sono i nostri anziani credo che meritino qualche disagio in più buona serata